Ciao amici, bentornati nel mio canale. Oggi andiamo a realizzare questa bellissima ghirlanda con la tecnica del granny. È un progetto molto semplice che trovo ideale per abbelire e decorare il nostro giardino, il nostro terrazzo, ma anche come decoro da interno per una cameretta di bambini o un soggiorno. Questo progetto lo potete realizzare sia in cotone, come ho fatto in questo caso qua, e anche con un filato acrilico. Viene bellissimo ugualmente. È molto carino, come vedete, quei punti del granny. Allora adesso vi faccio vedere quello che ci occorre. Io con voi insieme andrò a fare questo modello con l'acrilico. Io qua ho usato tre colori diversi perché il colore viola l'ho usato per tre righe. Voi potete usare anche per ogni riga un colore diverso. Questo sta nel vostro gusto. Adesso vediamo cosa ci occorre. Io andrò a usare questo colore viola, il rosa e il bianco che lavoro con un uncinetto numero 3. Voi adeguerete il vostro uncinetto in base al filato che usate. abbiamo bisogno di una forbice e di un ago da lana. Adesso io insieme a voi andrò a realizzare un campione dove andrò a caricare circa 40 catenelle per farvi vedere la tecnica. Perché comunque caricando 40 60 o 100 catenelle la tecnica è sempre quella. Per questa ghirlanda qua che misura quando è appesa un metro io sono andata a caricare 120 catenelle. Per questa ghirlanda che misura 33 centimetri ho caricato 60 catenelle. allora prendiamo il nostro filo il nostro uncinetto e andiamo a fare un capietto iniziale. E adesso andiamo a caricare catenelle. ripeto nel mio caso caricherò una quarantina di catenelle. Voi in base alla lunghezza che desiderate la vostra ghirlanda e andate a fare catenelle. facciamo questo lavoro e poi ci rivediamo. Quando avrete realizzato le catenelle che servono per la vostra lunghezza desiderata andate a allungare l'asola e tagliare il filo. tiriamo bene qua. Andiamo a riprendere l'uncinetto. Io nel mio caso vado a riusare lo stesso colore ma voi potete già cambiare e prendere un altro colore. facciamo un capietto. Andiamo dove abbiamo terminato il nostro lavoro. Entriamo nell'ultima catenella che abbiamo realizzato. portiamo il filo di qua. Passiamo anche attraverso l'asola. Abbiamo fatto un punto bassissimo. Adesso la codina ce la mettiamo in parallelo così ci lavoriamo sopra le maglie. Così il filo è già ben nascosto. ci alziamo con due catenelle e nella stessa catenella dove abbiamo iniziato il lavoro prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo e facciamo una mezza maglia alta. filo sull'uncinetto nella prossima catenella libera entriamo una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto e nella stessa catenella facciamo una mezza maglia alta e nella stessa catenella una seconda mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, nella catenella successiva andiamo a ripetere le nostre due mezze maglie alte, filo sull'uncinetto nella prossima catenella, due mezze maglie alte nello stesso punto di base. adesso andrete a fare questo lavoro per tutta la riga e poi ci rivediamo. Arrivata la nostra ultima catenella facciamo le nostre ultime due mezze maglie alte una catenella aggiuntiva allunghiamo l'asola tagliamo il filo come vedete adesso si è già un po' arriciata adesso andiamo a prenderci il nostro prossimo colore che nel mio caso è il rosa facciamo un capietto iniziale torniamo all'inizio del nostro lavoro entriamo nella prima catenella ci prendiamo il filo lo portiamo di qua passiamo attraverso l'asola e abbiamo fatto un punto bassissimo la codina sempre in parallelo adesso andiamo a realizzare 4 catenelle 1 2 3 e 4 filo sull'uncinetto e nella stessa maglia di base andiamo a realizzare una maglia alta filo sull'uncinetto filo sull'uncinetto sopra la prossima mezza maglia alta del giro sottostante facciamo una maglia alta una catenella filo sull'uncinetto e nella stessa maglia facciamo una seconda maglia alta filo sull'uncinetto nella prossima maglia una maglia alta una catenella e una maglia alta nella stessa maglia di base in pratica andiamo a realizzare questi punti v facendo una maglia alta una catenella di separazione e un'altra maglia alta nella stessa maglia di base nella prossima maglia facciamo la nostra maglia alta catenella e nella stessa maglia di base una seconda maglia alta andrete a fare questo per tutto il giro e poi ci rivediamo arrivata la nostra ultima maglia facciamo il nostro ultimo punto v facendo la maglia alta catenella e la maglia alta nello stesso punto di base la catenella aggiuntiva allunghiamo l'asola tagliamo il filo e come vedete la nostra ghirlanda ha già preso una forma adesso andiamo prendere il nostro prossimo colore che nel mio caso è bianco sempre iniziamo facendo un capietto iniziale andiamo torniamo all'inizio del lavoro andiamo nella terza catenella che abbiamo iniziato dell'inizio giro precedente entriamo prendiamo il filo passiamo attraverso l'asola e la seconda asolina il filo mi raccomando sempre in parallelo che ci lavoriamo sopra 3 catenelle 1 2 e 3 e nello spazio subito che abbiamo sotto andiamo a realizzare altre due maglie alte 1 e 2 adesso abbiamo qua due maglie alte le prime 3 catenelle ci facevano da maglia alta in totale abbiamo 3 maglie alte adesso facciamo una catenella di separazione prendiamo il filo sull'uncinetto saltiamo nel prossimo punto v in pratica saltiamo sempre due maglie alte del giro sottostante entriamo all'interno del v e qua realizziamo 3 maglie alte 2 e 3 catenella di separazione prendiamo il filo sull'uncinetto saltiamo 2 maglie alte del giro sottostante entriamo nel v e qui realizziamo 3 maglie alte 2 e 3 catenella di separazione filo sull'uncinetto saltiamo nel prossimo v calcolando che dobbiamo saltare 2 maglie alte del giro sottostante entriamo e ripetiamo 3 maglie alte e 3 catenella di separazione filo sull'uncinetto nel prossimo v entriamo e realizziamo le nostre 3 maglie alte catenella di separazione filo sull'uncinetto nel prossimo v le nostre 3 maglie alte e andiamo a ripetere questo per tutta la riga facendo 3 maglie alte nei punti v e poi la catenella di separazione arrivati al nostro ultimo v andiamo a fare le o nelle nostre ultime 3 maglie alte 2 3 la catenella aggiuntiva allunghiamo l'asola tagliamo il nostro filo adesso andiamo di nuovo dove abbiamo sempre iniziato i nostri giri ci prendiamo il nostro prossimo colore io vado a riprendere il colore col quale ho fatto la prima riga le prime due righe perché mi piace questo gioco questo richiamo delle due righe quella iniziale e quella finale voi però potete prendere anche un altro colore questo è di vostro gusto andiamo a rifare un capietto iniziale come abbiamo fatto fino adesso andiamo a cercare la nostra terza catenella delle prime 3 catenelle che abbiamo iniziato che abbiamo realizzato all'inizio giro entriamo con l'uncinetto prendiamo il filo lo passiamo di qua passiamo attraverso l'asola abbiamo fatto un punto bassissimo codina sempre in parallelo realizziamo 3 catenelle 1 2 e 3 prendiamo il filo sull'uncinetto andiamo nel primo spazio che abbiamo tra le 3 maglie alte e le prossime 3 maglie alte praticamente lo spazio che si è formata dalla catenella del giro sottostante entriamo e qui andiamo a realizzare 4 maglie alte 2 3 e 4 tutti nello stesso spazio catenella di separazione filo sull'uncinetto andiamo nello spa nello nel prossimo spazio tra un gruppo di tre maglie alte e quello successivo entriamo e ripetiamo le nostre 4 maglie alte 3 e 4 catenella di separazione filo sull'uncinetto prossimo spazio entriamo e ripetiamo le nostre 4 maglie alte 3 e 4 catenella di separazione filo sull'uncinetto prossimo spazio prossime 4 maglie alte 3 e 4 filo sull'uncinetto scusate anche la prima c'è la catenella di separazione il filo sull'uncinetto nel prossimo spazio realizziamo 4 maglie alte catenella di separazione filo sull'uncinetto e nel prossimo spazio le nostre 4 maglie alte e faremo questo fino arrivare alla fine alla fine della riga e poi ci rivediamo arrivati nel nostro ultimo spazio dopo aver fatto la catenella di separazione andiamo a fare le nostre ultime 4 maglie alte 2 3 4 catenella aggiuntiva allunghiamo l'asola tagliamo il filo adesso andiamo a prendere l'ago da lana nascondere il nostro i nostri fili all'interno del lavoro passando in qualche maglia possiamo poi tagliare il filo quando abbiamo nascosto i nostri fili andiamo su all'inizio andiamo a sistemare per bene la nostra l'irlanda girando per bene in modo che si sistemano i giri piegare leggermente il lavoro in questo modo ed ecco pronta la nostra bellissima ghirlanda io lo trovo una cosa molto molto carina come ripeto per abbellire i nostri giardini quando facciamo qualche grigliata qualche festa da appenderli io spero che questo video vi sia piaciuto se così lasciatemi un like abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial